Si è conclusa l'asta in tribunale per l'aggiudicazione delle industrie Valentini. L'unica offerta è quella del gruppo pesarese Marinelli. Ora si attende l'aggiudicazione definitiva. Coronavirus, casi in aumento oggi in Emilia Romagna, ma in calo a Rimini, dove sono superati dalle nuove guarigioni, stabili ricoveri. Verso le amministrative, nella lista di Fratelli d'Italia, quattro consiglieri comunali uscenti, in cerca di conferma, i Cinque Stelle annunciano ufficialmente il ritorno dopo il passaggio a vuoto del 2016. Calcio ancora un rinforzo per l'attacco del Rimini, che annuncia l'arrivo di Domenico Germinale, ieri sera alla Notte Bianco-Rossa, con la presentazione delle squadre. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Carotg. Un anno e mezzo dopo la presentazione del concordato in bianco per le industrie Valentini di Rimini, il percorso per la ripartenza sembra ormai compiuto. Il nome dell'acquirente, già emerso nei mesi scorsi, ora è ufficiale e per il passaggio di proprietà mancano le ultime tappe. Salvo sorprese dell'ultima ora, le industrie Valentini diventeranno Marinelli. Conclusa l'asta al Tribunale di Rimini, la storica advienda riminese del settore legno e arredo è stata giudicata al gruppo del noto imprenditore pesarese, che ha vinto la gara per l'affitto e la successiva vendita. L'offerta di Marinelli, che per partecipare alla gara ha versato una caparra di 500.000 euro, è stata l'unica. Entro dieci giorni potranno però essere presentate al commissario giudiziale offerte migliorative di almeno il 10% sul prezzo di aggiudicazione provvisoria insieme a un assegno col 10% del prezzo offerto a titolo di deposito cauzionale. In questo caso si procederà a una nuova gara. L'aggiudicazione del ramo d'azienda produttivo prevedeva come base d'asta 60.000 euro annui più IVA per l'affitto e 2.900.000, oltre agli oneri fiscali, per l'acquisto. La fase di affitto del nuovo acquirente è preliminare alla vendita definitiva, che potrà avvenire solo dopo l'omologazione della proposta concordatoria avanzata dalla vecchia società in liquidazione, sulla quale saranno chiamati a esprimersi i creditori non privilegiati. L'udienza è fissata per il 14 ottobre. Il concordato liquidatorio era stato presentato lo scorso febbraio. CGL, Cisle e Will annunciano già l'intenzione di chiedere un confronto col nuovo imprenditore per tutelare tutti i lavoratori attuali, 120 addetti al ramo produttivo, che troveranno occupazione presso la nuova società entro il mese di settembre. Una settantenne è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità dalle di soccorso per le conseguenze di un incidente avvenuto poco prima delle 16 in via Sogliano a Montalbano di Sant'Arcangelo. L'uomo, per cause da accertare sulla sua bicicletta, è caduto. Non risultano coinvolti altri veicoli sul posto, oltre al 118 è intervenuta anche la polizia locale di Vallata. Siamo all'aggiornamento sul coronavirus, andamento in controtendenza rispetto alla regione oggi per la provincia di Rimini, dove i casi sono in calo. Rimane stabile la situazione negli ospedali. Oggi a Rimini le guarigioni tornano a superare i contagi. I nuovi casi sono 54 rispetto ai 70 di ieri, di cui la metà sintomatici. I pazienti non più positivi sono invece 67. Casi in aumento invece in Emilia-Romagna. 721 rispetto ai 529 di ieri, su un totale di 33.490 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test è del 2,1%, ieri l'1,9. Oggi l'età media è molto più alta di ieri, 38,4 anni rispetto a 34,8. Ci sono tre province sopra i 100 casi. Bologna con 161, Modena con 130 e Parma con 104. Ci sono purtroppo anche tre decessi, tutte donne. Una 64enne di Reggio Emilia, una 78enne di Ferrara, una 92enne di Forlì-Cesena. Le nuove guarigioni in Emilia-Romagna sono 182. I casi attivi a oggi sono 16.489 rispetto a ieri, 536 in più per il 97,3%. Sono in isolamento domiciliare. Aumento minimo per i ricoveri. Quelli nelle terapie intensive sono 49, uno in più rispetto a ieri. Rimini è stabile a 6. 395 i ricoveri negli altri reparti Covid, 7 in più. Al capitolo vaccini, le dosi somministrate in Emilia-Romagna sfiorano i 6 milioni, 2.760.000 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Lo stabile di Via Bassi, mai diventato nuova questura, a Rimini è ancora al centro di una controversia. L'amministrazione comunale di Rimini, con una delibera di giunta, ha disposto di procedere per vie legali nei confronti della curatela fallimentare della società DAMA, oggetto del contendere, sono gli standard urbanistici e le opere di urbanizzazione di pertinenza del fabbricato. Nella delibera si spiega che il Comune aveva ottenuto la disponibilità, da parte della curatela, a cedere gratuitamente a queste aree. Richiesta, poi formalizzata, via Pec, il 22 gennaio scorso, e nella quale si chiedeva di inserire nell'avviso d'asta la clausola che obbligava appunto l'aggiudicatario alla cessione gratuita al Comune delle aree in questione. Non solo la cessione non si è perfezionata, ma il 1 febbraio il Tribunale di Rimini ha disposto la vendita, senza incanto della piena proprietà del compendio immobiliare, con annessa area coperta e scoperta pertinenziale ad uso corte, nonché di appezzamenti di terreno tra le vie Lago Maggio, Pascoli e Bassi, tra i quali anche i mappali che andavano ceduti gratuitamente al Comune. Nell'avviso non c'è nessuna traccia dell'obbligo di cessione e così l'amministrazione ha deciso di far valere le sue ragioni. Sono state depositate le firme ed è stata presentata questa mattina la lista di Fratelli d'Italia Rimini che in vista delle prossime amministrative sostiene il candidato sindaco Enzo Ceccarelli. 32 i nomi tra i quali spiccano sono quelli di quattro consiglieri comunali uscenti. Le amministrative 2021 a Rimini saranno per Fratelli d'Italia un banco di prova importante. C'è la candidatura a sindaco di Enzo Ceccarelli da sostenere insieme alla coalizione di centrodestra, ma anche l'obiettivo di confermare i numeri che a livello nazionale lo danno come primo partito. E poi c'è da creare una classe dirigente locale che possa anche essere da pungolo positivo per Ceccarelli. Ha spiegato l'onorevole Montaruli che ha assunto il ruolo di coordinatrice provinciale dopo le dimissioni di Federico Brandi. Proprio Brandi sarà uno dei candidati in lista, capolista il veterano Gioenzo Renzi, ma nel partito sarà competizione all'ultima preferenza. A cercare la conferma in consiglio ci sono infatti Nicola Marcello e Carlo Rufo Spina, arrivati dopo l'addio a Forza Italia, e Filippo Zilli che nel 2016 era stato eletto con la civica vincere per Rimini. Il nostro obiettivo è quello di riconfermare i consiglieri comunali uscenti, ma soprattutto di rappresentare quella destra che si identifica in Giorgia Meloni, ma anche appunto, come è stato giustamente detto, creare la classe dirigente di Fratelli d'Italia sul territorio, che sappia dare risposte concrete sulla base di un programma valoriale fondamentale che non può essere ignorato. Io penso che una campagna elettorale non si deve ridurre all'acquesto del voto, ma a presentare le proprie idee, le proprie proposte ai cittadini per il buon governo della città. Penso che il tema della sicurezza sia il tema che sta più a cuore dei riminesi, obiettivamente, perché è una città che ancora è in testa nella classifica italiana, con il primato dei reati, ecco non è un bel vedere per Rimini città turistica. I primi provvedimenti sono naturalmente l'adeguamento degli organici e delle forze dell'ordine, l'adeguamento dell'organico e della polizia locale, soprattutto individuare quelle zone di criticità nella città dove bisogna intervenire. Tra le mie proposte c'è anche la costituzione richiesta di un nucleo antidroga della polizia municipale. Non è più tollerabile che certe attività siano compiacenti nell'ospitare gli irregolari, la prostituzione, i fuori legge, gli spacciatori. E a depositare le firme oggi a Rimini è stato anche il Movimento 5 Stelle che così torna ufficialmente in corsa dopo il passaggio a vuoto del 2016, quando a Rimini non si presentò nessuna lista. Capolista è Simona Domeniconi. Il 5 Stelle appoggia la candidatura a sindaco di Gloria Lisi. A largo insieme è lo slogan scelto dal circolo velico riminese per l'ottava edizione della Rigasa, la regata d'altura a Rimini-Gagliola-Sansego. Con ritorno a Rimini che partirà il 10 settembre alle 17 dal porto e impegnerà gli equipaggi su un totale di 170 miglia non stop. Tante conferme e qualche bella novità. La regata quest'anno ha una adesione anche di nuovi armatori che parteciperanno a questa regata e quindi avremo un'edizione con più barche partenti rispetto alle barche dell'anno scorso. L'identificazione del suo slogan quest'anno è a largo insieme e la volontà di riportare fuori dopo questo periodo della pandemia gli armatori e le barche che sono rimaste per troppo tempo ferme al loro ormeggio e insieme ricostruire quella socialità, quel modo di correre, quel modo di regatare che ha contraddistinto da sempre la vita del circolo velico riminese. La regata è una regata sul 170 miglia senza scalo, è una regata che offre scenari differenti perché si parte da Rimini, si attraversa tutto l'Adriatico quindi altura piena per arrivare a toccare i due waypoint quindi della Gagliola e del Sansego. All'interno della regata si possono trovare molte condizioni la bonaccia, l'anno scorso abbiamo trovato tanto vento abbiamo fatto praticamente 23 ore con Scirocco 25-39 quindi anche lì le scelte tattiche e tecniche della barca giocano un ruolo fondamentale. Sicuramente è una regata che ha lasciato e cercheremo di far sì che lasci sempre di più il segno in questo territorio perché nel medio Adriatico comunque una regata così impegnativa non c'è naturalmente è più facile che possa essere al nord o al sud dell'Adriatico, qui no cercheremo di fare di tutto perché questo è incomiabile lo sforzo del circolo velico riminese perché questo accade. Vorrei chiudere con una battuta territoriale abbiamo celebrato in questi giorni la trasformazione di questa città all'insegna di Fellini ecco l'iconografia di questa regata è un po' l'idea del Rex che porta i riminesi a vederlo in mare e a congiungere questi momenti culturali che sono anche la vita del mare di questa città che non è solo una città sul mare ma è anche una città di mare. Parliamo di calcio con il nuovo rinforzo per l'attacco delle Rimini si tratta di Domenico Germinale, Trevigiano classe 87 cresciuto nel vivaio dell'Inter Germinale ha collezionato oltre 300 presenze tra i professionisti con le maglie di Foggia, Benevento, Como, Albinoleffe, Catanvaro, Spal, Alessandria e Padova l'anno scorso si è diviso tra Cavese e Vispesaro l'annuncio del suo arrivo è stato dato ieri sera in occasione della Notte Biancorossa la presentazione del settore giovanile della prima squadra del Rimini che si è svolta ieri sera al ristorante Frontemare e che sarà trasmessa questa sera alle 20.35 su Icaro TV vediamo in alcuni momenti Il progetto è un progetto di cercare di fare il massimo il massimo per Rimini è provare a arrivare primi poi se ci sono degli avversari più forti di noi stringeremo la mano e vediamo dove possiamo migliorare la squadra direi che al 90% è completa i ragazzi sono straordinari sul piano dell'applicazione e sono anche tutti i ragazzi a posto che non capita spesso nel calcio e questi per me sono dei buoni presupposti poi per quello che ho visto finora posso dire che anche sono degli ottimi giocatori e il resto ce lo dobbiamo mettere noi e poi la ciliegina sulla torta perché ha firmato il contratto oggi pomeriggio il nuovo attaccante è Domenico Germinale eccola qua Domenico l'importante è creare una situazione che possa dare entusiasmo ad una piazza che ha fatto un calcio a livelli veramente importanti e penso che la costruzione del progetto parta da qua dalle basi che sono state create dalla società dallo sforzo e da questi ragazzi io ho conosciuto da poco ma hanno grossi valori poi il campo determinerà quello che è il risultato finale noi ce la metteremo tutta per quanto riguarda Rimini spero davvero che sia un anno particolare che la città possa ricordare per i successi calcistici e non solo dobbiamo vincere anche perché quest'anno ricorre un anno molto particolare che è quello dei 110 anni della storia del Rimini Calcio di conseguenza quest'anno dobbiamo per forza far bene per onorare e per ricordare in modo positivo i 110 anni di storia della Rimini Calcio andiamo Siamo in conclusione vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it la pagina facebook di News Rimini e la nostra piattaforma video Icaro Play grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione l'augurio di una buona serata e la nostra piattaforma video